Alpimed Questo è un progetto da condividere, un progetto di cui far parte e questo vale tanto per gli altri operatori che ci sono, siamo un gruppo di donne che lavoriamo insieme, tanto anche con la comunità, c'è veramente una rete di collaborazione continua nel rispetto ma anche nel cercare di aiutarsi nel fare le cose. Questa è la forza grande che secondo me abbiamo in questa piccola borgata. Noi vogliamo garantire un servizio, vogliamo esserci, ci occuperemo di recuperare le nostre strutture, di fare cose che magari negli altri anni non siamo riusciti a fare e intanto cercheremo di rivolgerci a un tipo di pubblico che potrà scegliere la montagna quest'anno come spazio per respirare, come spazio per recuperare il tempo passato chiuso in casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.